eccoci qua vedo la trasmissione sta per incominciare la trasmissione sta per incominciare buonasera a tutti buonasera a tutti da pistoia io sono dna health e questa sera eccoci qua vedo tantissimi amici già in linea vedo già tantissimi commenti buonasera buonasera a tutti angelic music ciao nora buonasera anna maria buonasera carmela buonasera roberta massimo giuseppina patrizia rita marina patrizia eccoci qua stefania liliana joas cristina buonasera francesca buonasera monica marina natascia anna letizia fulvio gabriella buonasera mirella elena fiore di loto buonasera eccoci qua buonasera buonasera veramente a tutti siamo intanto vi chiedo se mi sentite bene almeno siamo ancora abbastanza pochi almeno posso sistemare volumi eventualmente tina buonasera luciana buonasera luciana buonasera eccoci qua tina marilli buonasera francesca buonasera siete favolosi siamo al 22 agosto 2021 e parliamo anche stasera di legge d'attrazione questa sera voglio integrare con la crescita personale voglio fare un bel diciamo un'integrazione a tutto questo lavoro che stiamo facendo ormai da anni su questo canale youtube e voglio parlare un pochino con voi a cuore aperto a cuore aperto di un argomento che che mi sta molto moltissimo a cuore leonardo buonasera leonardo nora buonasera laura buonasera laura e urania buonasera poi vediamo roberta microfono al top perfetto perfetto grazie grazie roberta mary jim buonasera a tutti joelena buonasera ecco qua mi avete manifestato ciao a tutti l'hai la buonasera mix esplosivo grande raffa raffa allora allora dai iniziamo ok sto leggendo già un po di commenti allora fatemi sistemare due cosine e sono a posto e iniziamo con l'argomento di stasera allora come sempre iniziamo con il parlare di legge d'attrazione dell'argomento di stasera crescita personale legge d'attrazione e tutto ciò che fa parte del mio canale youtube poi sarò molto lieto di rispondere alle vostre domande se saranno comunque coerenti con con l'argomento quindi ancora buonasera tutti diamo il tempo ad altri spettatori di unirsi a noi questa bellissima domenica sera il ferragosto è andato è andato alla grande con un bellissimo calore in tutta italia eravamo circa sui 40 gradi a tutti non ho fatto il mantra per abbassare la temperatura come avevo detto sulla nella chat insomma nella in descrizione a facebook e qui sul canale e intanto grazie a tutti i nuovi spettatori grazie 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 a tutti gli spettatori che ormai mi seguono da da mesi da anni e quindi grazie grazie veramente a tutti questa sera ripeto la voglio improntare un attimino sulla legge d'attrazione crescita personale e su tutti gli strumenti che si possono trovare sul canale dna il canale è nato per appunto per far rendere più consapevole io dico la popolazione poi realmente si parla solamente di chi vede i canali di chi riesce a capire il significato del dei miei video ecco qua grazie 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 a te ciao quanti siete siete fantastici vi vi abbraccerei vi bacerei uno per uno anche se anche se c'è il covip ecco qua quindi iniziamo piano piano con con la serata positività positività ormai se di famiglia anna maria grazie anche voi per me siete diventata una bellissima e numerosissima famiglia questo lo dico e lo ripeto ormai da da molto tempo potreste fare un mantra per trovare avere sempre un lavoro joelena c'è già c'è già se cercate sul canale infatti l'argomento di stasera sarà proprio puntato sul dire cosa c'è sul canale quindi joelena c'è già un mantra per trovare lavoro c'è già un audio studiato per trovare lavoro quindi cercate cercate sperimentate allora iniziamo iniziamo anzi io inizio col bere mezzo bicchier d'acqua un bellissimo bicchier d'acqua caricato con le mie belle frequenze a 528 hertz dai un attimo solo e arrivo siamo circa 200 spettatori simultanei vedo possiamo iniziare francesca hai perfettamente ragione siamo con le vibrazioni molto 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 più alte allora vediamo da dove iniziare allora gli strumenti gli strumenti del canale dna est ecco qua iniziamo con parlare di questi strumenti questi strumenti che parlano comunque di crescita personale cos'è la crescita personale intanto la crescita personale è il dire uno strumento è riduttivo la crescita personale è un un modo un modo per diventare più consapevoli di cosa siamo di cosa vogliamo essere di chi siamo di cosa abbiamo la crescita personale è tutto essere consapevoli di noi stessi dei nostri pensieri delle nostre emozioni e di cosa ci succede intorno anche quindi se io divento consapevole di chi sono divento più consapevole di cosa ho intorno e questa crescita personale più sono consapevole più divento consapevole diventare consapevoli di noi stessi delle nostre esperienze delle nostre emozioni riuscire a trasformare ogni esperienza in in un insegnamento alla fine questa crescita personale anche ogni esperienza si può trasformare in una crescita personale che sia positiva o negativa ogni esperienza può essere capita può essere elaborata può essere trasformata in crescita personale quindi è questo e stasera parleremo di questo ho iniziato questo percorso come dna health mi sembra intorno al 2017 ovviamente il mio percorso di crescita personale ha iniziato molto tempo prima si parla circa del 2008 una cosa del genere dove ho acquisito tutti gli strumenti che vi sto proponendo poi sul canale quindi quello che vi propongo fa parte già del mio percorso io non ho la soluzione in tasca non ho la soluzione in tasca per nessuno io propongo esclusivamente quello che conosco quello che conosco e quello che ha funzionato per me ciò che ha funzionato per me lo ripropongo sul canale ovviamente gli strumenti che propongo sul canale sono strumenti utilizzabile tramite web poi ci sono strumenti che purtroppo dobbiamo per forza utilizzare dal vivo però quello che posso proporre tramite il canale io lo rendo libero gratuito e per sempre a tutti iniziamo dal 2017 ho iniziato a pubblicare con le frequenze frequenze positive frequenze e battiti binaurali quindi iniziamo a parlare di queste frequenze sul canale dna health sono sono presenti queste frequenze adatte a guarire a ristabilire a equilibrare il nostro corpo il nostro sistema la nostra macchina la nostra macchina che si chiama essere umano quindi la macchina dna health si può ristabilire con le frequenze quindi nel 2017 quando aperto il canale dissi ok io già utilizzavo le frequenze io sono musico terapeuta anche quindi già utilizzavo frequenze sono pianista un pianista che comunque a un pianoforte accordato a 432 hertz quindi un pianoforte accordato a una frequenza molto particolare una frequenza curativa e dissi bene queste frequenze le uso per me stesso le posso utilizzare le posso proporre a al mio pubblico e il mio pubblico siete voi quindi grazie ancora di essere qui ci sono quindi le frequenze positive ogni organo ogni sistema dell'essere umano corrisponde ad una frequenza le frequenze sono vibrazioni sono vibrazioni che si misurano inerze ogni organo ogni parte del nostro corpo vibra qualsiasi oggetto interno esterno a noi vibra a una vibrazione veloce o bassa che sia lo stesso router di casa che vi sta permettendo di connettervi a questa diretta stasera sta vibrando se vedete ci sono per esempio i router moderni sono 4000 hertz una cosa del genere 4 kilo hertz anzi li chiamano però sono 4000 hertz l'ers è una vibrazione è una vibrazione che l'orecchio mano non percepisce ma c'è c'è nell'aria quindi le vibrazioni che propongo sul canale che si chiamano appunto frequenze benefiche c'è proprio un una playlist frequenze benefiche che aiutano ogni parte del corpo a ristabilire ogni parte del corpo a ristabilire l'equilibrio di ogni parte del corpo questa settimana ho pubblicato una frequenza adatta a guarire i reni per esempio è stato visto che i reni vibrano a quella frequenza quindi ascoltare quindi tramite l'apparato uditivo che vibra perché quando noi ascoltiamo musica sono vibrazioni che entrano tramite l'apparato uditivo vibrano entrano in risonanza con l'organo previsto in questo caso i reni se c'è un problema nell'organo la frequenza o si alza o si abbassa quindi il gioco è questo se la frequenza si alza si abbassa all'organo vuol dire che ha difficoltà a difficoltà di azione di funzionamento di c'è una malattia ci può essere un sovrecitamento insomma ci possono essere tante cose riportarlo alla frequenza adatta aiuterà il sistema aiuterà l'organo quindi sul canale di anel troverete queste frequenze benefiche solfeggi vengono chiamati anche la frequenza dovete non farvi ingannare perché la frequenza è un suono un suono che suona così circa qualcosa anche di non troppo piacevole magari da ascoltare da solo infatti io ci metto spesso e volentieri come si dice della musica di sottofondo però sul canale troverete sempre quando dico frequenze benefiche un suono che fa questo questo rumore pii po pii pa pu qualcosa del genere quindi un suono unico che che sembra un fischietto ecco qualcosa del genere e queste sono le frequenze naturali le frequenze di guarigione il cuore ha una frequenza il fegato una frequenza il cervello una frequenza anzi ne è più di una ogni organo ha una frequenza e sul canale appunto potrete trovare queste frequenze anche sul piano energetico ho pubblicato delle frequenze per i chakra per esempio quindi frequenze adatte ai chakra alla parte energetica del nostro corpo ultimamente ho pubblicato una playlist sound of universe si chiama appunto suonata con le campane tibetane di un grandissimo maestro di un grandissimo musicoterapeuta pistoiese che si chiama yuridici e e quindi aiuta a questa campana tibetana suonata a una frequenza specifica a riequilibrare parti del nostro corpo energetico che parte appunto dei chakra quindi dal chakra della terra dal chakra di base fino a quello della testa e questo è quanto essenziale quindi sul canale dna health frequenze benefiche per guarire ogni cosa e questo è uno degli argomenti con le frequenze si può migliorare una situazione energetica si può migliorare una situazione fisica come dico sempre e lo riporto sotto i video non sostituiscono in alcun modo cure mediche perché comunque la musicoterapia non è considerata un farmaco non è considerata medicina quindi potete utilizzare queste frequenze in in più alle vostre cure mediche se avete dei problemi potrete utilizzare queste frequenze come quando ascoltate la musica quindi sicuramente vi faranno un supporto alle vostre cure mediche che già state facendo ok poi vediamo vediamo sul canale ci sono oltre alle frequenze benefiche che sono singoli suoni ci sono le frequenze binaurali e sulle frequenze binaurali ci sono c'è confusione c'è molta confusione molte persone mi dicono ma ci sono binaurali per ringiovanire qualcuno mi ha chiesto poi ma ci sono i binaurali per far non so cambiare il colore degli occhi ci sono i binaurali per per una cosa per un'altra per guarire il fegato per guarnire quello che allora la frequenza binaurale è una frequenza composta da due suoni binaurale 2b quindi già due suoni che poi nella mente vengono elaborati e diventa un suono unico la frequenza binaurale serve esclusivamente a creare stati d'animo emozioni stimoli cerebrali particolari io ho conosciuto per esempio le frequenze binaurali quando tornavo la sera come musicista io sono musicista tornavo la notte con il furgone tardissimo e su youtube trovai la frequenza binaurale per rimanere sveglio per esempio provare questa frequenza binaurale e subito il mio cervello si riattizzò diventò più lucido diventò più fresco non avevo più sonno quindi le frequenze binaurali che poi si basano su frequenze alfa beta beta fondamentalmente sono queste dove se io sono in beta il mio cervello a frequenze beta vuol dire che io sono sveglio sono attivo se sono in alfa vuol dire che sono un pochino rilassato se sono in teta vuol dire che sono in meditazione profonda sto dormendo vedo claudia che dice meglio ascoltarli con auricolari no claudia non è assolutamente vero è obbligatorio ascoltarli con gli auricolari perché le frequenze binaurali non esistono se non sono ascoltati in con le cuffiette con gli auricolari perché sono due soni che si vanno a miscelare direttamente nella mente un suono deve essere nell'orecchio destro un altro suono diverso deve essere nell'orecchio sinistro sono suoni simili che formano frequenze una frequenza particolare ho un video dove spiego come vengono creati questi suoni binaurali e si sommano scusate non si sommano diventano suoni binaurali per differenza per esempio se io metto una frequenza da 100 hertz su un orecchio destro e una frequenza da 115 hertz sull'orecchio sinistro quindi 100 destra e 115 sinistra se ascoltate in maniera binaurale quindi orecchio destro e orecchio sinistro la mente percepisce 15 hertz quindi fa una differenza se voi ascoltate senza gli auricolari i suoni binaurali non servono assolutamente a niente questa è legge anche su youtube se trovate scritto suoni binaurali bla 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 meditazione xy xy se non mettete gli auricolari non servono a niente non si ascoltano i suoni binaurali senza le cuffiette questa è una regola è una legge non è un'indicazione non è un consiglio se non ascoltate il suono binaurale non create il suono binaurale senza le cuffiette questo è quanto quindi le frequenze benefiche sono una cosa curano gli organi e curano le energie e quant'altro le frequenze binaurali servono a creare stati emozionali stati mentali più agitazione più rilassatezza più attenzione e quant'altro ecco servono a questo e questo è sì sì sono eccezionali vero grazie quindi come le usavo io all'inizio le utilizzavo per rimanere sveglio di notte ecco a ero assonnato ascoltavo un binaurale per l'attenzione quindi un binaurale in beta che era magari 30 hertz per esempio cuffiette e io riuscivo a guidare due tre quattro ore di fila senza ri addormentarmi capite anche bene che non è naturale utilizzare un binaurale per rimanere svegli di notte quando il nostro corpo ci dice di dormire ok frequenza per i generale follicoli del capello a mente sinceramente non la so mi dispiace allora fa differenza al volume no non fa differenza basta ascoltarlo con le cuffiette ecco quindi importante poi viene detto ma il volume ma quello ma quell'altro no volume deve essere sempre piacevole mi raccomando tina quando non esistevano le cuffie non esistevano binaurali perché fondamentalmente il battito binaurale ha uno studio degli anni 90 ma come saprei bene le cuffiette i walkman esistono dagli anni 80 fondamentalmente quindi non è che anzi fiore di loto grazie ormai sei la mia paladina grazie allora continuiamo carmen sicuramente per il colon non ci sono i binaurali perché ho spiegato che aiutano solamente uno stato mentale allora prima di fare domande io chiedo la gentilezza di ascoltarmi perché se mi ascoltate e scrivete vuol dire che non mi state ascoltando questo è normale ok quindi se state scrivendo è ovvio che non mi state ascoltando allora come dicevo il sbattito binaurale serve a stimolare frequenze cerebrali allegria tristezza gioia può essere utilizzato per essere più svegli per addormentarsi per entrare in meditazione e quant'altro ok allora vediamo vedas sì sì tutte cose che ho spiegato comunque già sul canale grazie allora poi quindi abbiamo parlato di frequenze dibattiti binaurali poi sul canale ho iniziato dopo tutte queste cose già pubblicate ho iniziato a pubblicare i mantra mantra e affermazioni positive anche in questo caso tantissime sono le domande ho pubblicato già una diretta dove parlavo solo di mantra e affermazioni positive per quanto tempo bisogna usarle ditemelo voi nel senso io dico sempre per almeno 21 giorni quando un mantra quando un'affermazione inizia a girare in testa può può essere giusto smettere massimo non rispondo adesso alle domande ok quindi lo ridico un attimino per adesso nella spiegazione non rispondo a domande fatemele dopo appena finisco potete farmi tutte le domande che vorrete grazie quindi anche mantra io consiglio almeno 21 giorni per creare questa abitudine quindi creiamo questa abitudine 21 giorni sono costante sono bravo brava che siate mi girano in testa le frasi mi girano in testa sta cambiando qualcosa nel mio corpo nel mio comportamento nella mia mente sì o no se no devo continuare se sì allora decido se continuare o meno posso utilizzare più mantra più affermazioni durante il mese durante una settimana durante il giorno certo potete fare tutto ciò che volete potete fare tutto ciò che vi sentite di fare quindi io inizialmente utilizzavo almeno tre mantra al giorno creati da me creati da altre persone io ogni giorno utilizzavo mantra sul denaro utilizzavo mantra sulla gratitudine e anche sul perdono poi alla fine quindi ne utilizzavo già tre tutti i giorni e lo utilizzate per diversi mesi non per 21 giorni però auto in maniera autonoma ho deciso quando smettere di usarli quando le frasi mi rigiravano in testa da sole non prima quindi anche in questo caso ho utilizzato il mantra 21 giorni non è successo niente certo è normale siate consapevoli di ciò che vi rigira in testa cos'è la legge d'attrazione se non i pensieri le emozioni che iniziano a muoversi ecco quindi io vi consiglio almeno 21 giorni almeno 21 giorni vuol dire per un minimo di 21 giorni ci sono alcuni mantra alcune frasi che io mi ripeto da 7 8 10 anni ma perché mi fanno bene perché mi potenziano perché mi piacciono non mi sono limitato a 21 giorni è questo shaktiveda ti ringrazio dopo pubblica fai pubblicità dopo delle frequenze gli armonici e quant'altro ne parliamo dopo non che li scrivi in chat è un bene ma adesso tanto le persone non leggono quindi non stare a a confondere ecco parliamo di mantra adesso parliamo di mantra quindi almeno 21 giorni ripetizioni costanti se salta un giorno succede qualcosa no non succede niente è l'abitudine che si deve creare quindi è un abitudine positiva io poi se un giorno non ho voglia non ho tempo non posso non succede niente se diventano due se diventano tre i giorni in cui mi interrompo l'abitudine si interrompe quello è ovvio però poi non giorno si può andare tranquillamente avanti poi cosa dire dei mantra i mantra servono a potenziare potenziare un'idea quindi io potenzio l'idea di voler più soldi potenzio l'idea di voler più amore potenzio l'idea di voler più salute c'è da fare conti con l'idea di base con la credenza di base io se sono malato e faccio un mantra sul sulla salute ho un'idea di base che sarà sulla malattia non sulla salute ovviamente quindi forse ci vorrà più tempo a far assorbire il mantra nella mia mente rispetto a una persona magari come me oggi che sono imperfetta in piena salute se faccio un mantra sulla salute mi ci vorrà pochissimo in quanto il mio sistema mentale è già puntato alla salute quindi anche quando mi chiedete come mai faccio il mantra da 21 giorni non è successo niente ok dimmelo te mi ha lasciato la ragazza due settimane fa ok quindi te non sei puntato all'amore ma stesso puntato magari alla sofferenza quindi o hai una sofferenza più antica addirittura invece dei 21 giorni possono volerci tre settimane quattro settimane quindi c'è fretta poi ok e questo è quanto affermazioni mantra sono più o meno la stessa cosa i mantra sono tre quattro frasi ripetute cinque frasi ripetute in continuo le affermazioni sono molto di più 30 20 15 ripetute quindi il principio è molto simile però comunque c'è la loro differenza almeno 21 giorni costanza potete recitarli a voce quindi ripeterli io voglio più salute io sto benissimo io mi amo io desidero una casa al mare ecco ogni frase un mantra al telegiornale da 18 mesi a questa parte ci stanno recitando altri mantra se vi siete accorti per esempio anche quelli sono mantra ricordatevi ogni canzone che ascoltate per più di cento volte diventa un mantra quindi non solo quelli che trovate sul mio canale sono mantra ma tutto ciò che ascoltate sono mantra se li ascoltate per tante volte e quindi questo è un altro discorso ancora potete recitarli potete pensarli mentalmente potete solo ascoltarli in maniera distratta non fa differenza cioè fa differenza ci mancherebbe perché magari se li recitate se li fate compassione con la giusta emozione entreranno molto prima nel vostro circuito mentale e fisico se li fate in maniera distratta si trasformano più che altro in subliminali ascolto distratto uguale subliminale questa deve essere una regola ascolto distratto uguale subliminale ok quindi ascolto e mantra ascolto quello ascolto quell'altro faccio le frequenze le frequenze per esempio curano a prescindere ovviamente se è una patologia mentale e non credo a quello che faccio non funzionano neanche le frequenze poi subliminali parliamo di subliminali i messaggi subliminali sono molto simili alle alle affermazioni e mantra però si sentono meno o non si sentono sentite solo della bella musica quindi per chi mi dice ma io non sento le parole oppure io leggo le parole non stai facendo un subliminale il subliminale si ascolta della bella musica l'orecchio umano che funziona da c 15 20 hertz fino ai 12 14 mila hertz nel mezzo io ci metto anche delle parole in mezzo a questa musica in mezzo a questo range di frequenze che l'orecchio consapevole l'orecchio poco attento non sente ma ci sono quelle parole quindi in pratica si bypassano tutte quelle credenze tutte quelle convinzioni perché l'esempio è questo se io faccio un mantra sul denaro io sono ricco io sono ricco io sono ricco io sono ricco e questo è il mantra sul denaro per esempio il bypass mentale già faccio il mantra e mi sento un po passatemi il termine un imbranato dai mettiamola così quindi già lì mi sento un imbranato in più dico una cosa a cui non credo io sono ricco e magari ho problemi economici quindi già c'è una credenza immediata che va in contrasto con la mia realtà con la mia verità con la mia vita io sono in contrasto dico io sono ricco mentre realmente non lo sono e questo è il mantra nel mantra ci vuole costanza impegno e piano piano entrerà nella realtà del subconscio anche il mantra col subliminale non sentendo la frase in maniera cosciente si va direttamente nell'inconscio quindi se io non sento la frase io sono ricco ma l'orecchio la sente e non me la riconverte più o meno nella consapevolezza il senso di imbranatezza non c'è più non mi sento più un imbranato a dire io sono ricco a recitare io sono ricco e magari non lo sono quindi il subliminale serve a questo ascolto la frase io sono ricco ma all'orecchio non me la non me la fa sentire la percepisce solamente come parte di suono che viene rielaborata dalla parte mentale subconscio appunto e quindi entra questa frase diventa consuetudine questa frase nella mia mente ma realmente mi sfugge tutto l'iter di fare il mantra di recitare il mantra di di combattere contro il mantra per dire io sono ricco che realmente non è così ok quindi tutto ciò che sentite in maniera distratta quindi anche le affermazioni possono considerarsi messaggi subliminali ok chiaro come quando vedete la tv che c'è magari il protagonista che stringe in mano una coca cola l'occhio vede che ha una coca cola anche se il protagonista punta la vostra attenzione su un altro argomento quello è un messaggio subliminale stessa cosa con gli audio subliminali se l'orecchio è puntato a alla musica se la vostra attenzione puntata a rigovernare a spazzare a correre a fare jogging a lavorare o studiare anche se sentite il bisbiglio delle parole quello è un messaggio subliminale ok benissimo messaggi subliminali poi anche lì io faccio quelli da otto ore otto ore per chi dorme per chi li usa con le cuffiette mentre dorme magari o che mette il cellulare sul comodino così mentre si dorme io poi ho studiato otto ore esclusivamente per il fatto delle pubblicità youtube youtube come sapete mette pubblicità all'inizio e alla fine in maniera obbligata adesso anche canali non monetizzati quindi questa è una regola oltretutto 2019 applicata nel 2020 dove youtube a prescindere mette pubblicità questa cosa io quindi faccio gli audio subliminali di otto ore per non interrompere la vostra il vostro sonno con la pubblicità solo per questo lo faccio una routine media di un messaggio subliminale intorno ai 15 minuti quindi anche di giorno quando voi ascoltate i messaggi subliminali li potrete ascoltare per 15 20 minuti mezz'ora senza alcuna senza difficoltà non serve che li ascoltate per 18 per otto ore scusatemi quelli servono per chi li usa dormendo quindi più ovviamente si usano più funzionano quindi chi li utilizza durante la notte meglio vanno se li utilizzate di giorno vanno benissimo quelle 15 minuti 20 minuti mezz'ora il tempo che avete a disposizione va sempre bene quindi messaggi subliminali poi cosa abbiamo fatto sul canale sul canale allora io ho pubblicato allora sono qua con le mie playlist e allora vedo siamo partiti dai dai dalle frequenze benefiche dai binaurali dai mantra dalle affermazioni e poi vediamo eccolo qua joelena i modi per manifestare allora il titolo di questa sera è legge d'attrazione e crescita personale allora durante questi anni ho studiato ho letto un sacco di libri e tutti i vari autori hanno inventato tanti metodi per manifestare e specifico questo termine inventato tanti metodi per manifestare perché fondamentalmente allora la base della legge d'attrazione è questa pensa emozionati eventualmente attendi e ricevi quindi il chiedi attendi e ricevi è semplice molto semplice questo è il metodo di manifestazione ci sono persone che non conoscono lontanamente la legge d'attrazione perché non la conoscono non conoscono il termine non conoscono libri non conoscono niente ma chiedono attendono e ricevono naturalmente non è un metodo è uno stile di vita semplicemente uno stile di vita quello che sto cercando di dirvi con il mio canale con i duecento e rotti video che ho pubblicato è proprio questo è perfettamente inutile chiedere attendere e ricevere quando fondamentalmente siamo inconsapevoli dei nostri pensieri e di tutto ciò che ci gira intorno io vi chiedo già scusa come ha detto una volta un mio cliente quando voglio sentire una bella bugia non cerco dna health quando invece ho bisogno di tornare sulla realtà ritrovo il tuo canale questo mi è stato detto è stato per me un grande onore perché fondamentalmente si può schioccare le dita come ho letto ho visto un altro video schiocca tre volte le dita e chiedi il tuo desiderio e ti chiamerà in cinque minuti ok allora le tecniche per manifestare sono tutte utilissime tutte tutte quanti per una persona che fondamentalmente è consapevole per una persona che fondamentalmente invece è una bandiera al vento sono tutte tecniche inutili posso fare 101 desideri posso fare il 55 per 5 potrò fare le due tazze potrò fare il 369 potrò fare oponopono potrò fare mantra potrò fare tutto ma non servirà a niente allora voglio rispondere a questa domanda e ripeto non sto leggendo però mi è cascato l'occhio tina marilli ma se sbagli la legge d'attrazione all'universo ti aiuta la legge d'attrazione siamo noi l'universo non ti aiuta se noi siamo la legge d'attrazione l'universo esegue e basta perché c'è tanta povertà perché c'è tanta miseria perché c'è tanta tanto dolore nel mondo sembra che l'universo ti stia aiutando no l'universo non sta aiutando nessuno l'universo esegue semplicemente degli ordini è semplice questa cosa l'universo esegue i nostri ordini le domande sono sempre quelle ho fatto il 55 per 5 ma non è successo niente sto leggendo due cose tre allora il gioco è questo quindi perché nella mia vita faccio le due tazze ora faccio l'esempio di tanti commenti che ricevuto ma non è successo niente ho chiesto l'amore di pinco pallino ma non mi è arrivato niente ho chiesto soldi ma non mi è arrivato niente quello che dico io in nei miei 200 rotti video è questo qual è la tua abitudine mentale nelle 24 ore si consapevole delle tue 24 ore noi chiediamo tante cose ma non siamo consapevoli della nostra vita per fare un esempio detto da un grandissimo maestro della quarta via noi vogliamo riparare il motore facciamo finta che la riparazione del motore sia la legge di attrazione quando non sappiamo ancora aprire il cofano della macchina come faccio a tornare con il mio ex tipica domanda che mi viene fatta ok io ti posso rispondere in maniera tranquilla facciamo finta che non esiste il libero arbitrio come faccio a tornare con il mio ex ok ti metti in meditazione rimani concentrata su un sulla foto del tuo ex per 15 minuti cosa già impossibile perché personalmente riesco a rimanere concentrato per tre minuti io e sono almeno dieci anni che ci provo e poi fai questo quest'altro visualizzi il fascio luminoso che dalla tua dal tuo terzo occhio va al terzo occhio del tuo fidanzato gli comunichi quello che provi e lui tornerà da te ecco per esempio quindi il come fare cioè ci sono domande che sono troppo superiori a quello che riusciamo ancora a fare e questo è il problema si agnese è proprio questo ma è la la cosa divertente che se una persona come mi è stato scritto sul canale stamattina da un 20 nuovo come faccio a immaginarmi la mia vita felice quando faccio un lavoro di cacca che mi porta via tutto il tempo e mi stressa serve la crescita personale la famosa crescita personale per fare la famosa crescita personale bisogna essere più puliti bisogna che la nostra moto interiore sia fluita via bisogna ringraziare perdonare bisogna essere gioiosi della vita bisogna avere una sana autostima e quant'altro è questo se no non si riesce a immaginare il desiderio come se fosse già avvenuto è questo il vero e unico problema quindi un pochino è questo ecco allora chiedo un attimo di di pausa bevo l'altro mezzo bicchiere d'acqua a tra pochissimo ecco qua rieccomi a disposizione quindi fondamentalmente io ho detto in molti video anche che ho iniziato il mio percorso chiedendo piccole cose un parcheggio un caffè pochi soldi e quant'altro piano piano preso fiducia fede poi iniziato il mio processo di crescita personale che sta durando tuttora non ho finito anzi sono nel pieno e mi sto divertendo un sacco infatti e più sono pulito più sono pronto più riesco a desiderare la legge d'attrazione non è magia come viene percepita e come viene descritta in molti libri o in molti canali youtube la legge d'attrazione consapevolezza come faccio a lasciare mio marito come faccio a diventare miliardario come faccio a come faccio a fai un percorso di crescita ecco perché queste sono domande non rispondibili senza un contesto per esempio la prima cosa che vi consiglio di fare è ampliare il vostro dialogo interiore se non sapete che macchina state guidando come fate ad attrarre l'esterno a voi quindi la legge d'attrazione questo attrarre l'esterno verso di voi ok e qui è facile anche da capire quindi la legge d'attrazione come diceva tina non è buona o cattiva non ci aiuta siamo noi che stiamo chiedendo qualcosa il primo passo è cosa stiamo chiedendo perché ci sono queste tecniche 101 55 per 5 bla 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 che servono a rimanere concentrati per qualche minuto sul nostro desiderio benissimo e funzionano funzionano benissimo queste tecniche perché rimaniamo concentrati per qualche minuto su un unico desiderio però se tutto il resto del giorno ci concentriamo in maniera consapevole o non consapevole su ciò che non vogliamo attrarre lo stiamo già attraendo desiderare di tornare con una persona amata che ci ha lasciato quindi uno fa le tazzine la faccio le tazzine mi concentro sono abbastanza consapevole riesco a visualizzare ed emozionarmi perché anche questo non è così scontato ricordiamocelo non è facile anzi è difficilissimo prima la tazzina e sono triste con la prima tazzina con la seconda tazzina sono felicissimo perché so che già tutto è realizzato benissimo bevo l'acqua della mia tazzina e per tutto il resto della giornata penso a quanto mi manca è il mio lui o la mia lei penso a quanto mi manca è legge di attrazione visto che il pensiero attrae poi che ho fatto l'esercizio con le tazzine quello è un minuto due minuti tre minuti ma se per 24 ore penso a quanto mi manca io attraggo quanto mi manca attraggo mancanza stessa cosa per il denaro se penso quanto mi mancano i soldi e faccio un 55 per 5 che dura la bellezza di un minuto e mezzo a giorno e per 23 ore e 59 minuti penso a o mamma quanto sono povero il pensiero è legge di attrazione questa è la verità almeno la mia verità però è quello che ha funzionato con me ok allora detto questo poi cosa ci sono cosa si trova sul canale sul canale si trovano anche le afformazioni e non è un errore afformazioni sono quei termini fatti a domande quelle affermazioni fatte con la domanda come mai mi sento così bene come mai sono così ricco come mai sono fantastico come mai ho i capelli bellissimi ecco anche questo un pochino come i messaggi subliminali bypassano l'affermazione diretta sono ricco quando veramente io non sono ricco poi entra il come si dice il l'auto sabotaggio entra la credenza che ti dice no non sei ricco ma che cavolo stai a dire così facendo se io mi faccio la domanda come mai sono ricco questa credenza non non si attiva perché una domanda tutto sommato però funziona proprio come le affermazioni quindi anche le afformazioni sono un ottimo strumento da utilizzare detto questo sono quasi le 10 ho chiacchierato per la bellezza di 50 minuti e vi ringrazio di avermi sopportato per quasi 50 minuti adesso voglio rispondere a qualcuna delle vostre domande quindi da questo momento in poi leggerò le vostre domande prima no ok allora iniziamo a rispondere un pochino come si sta siamo il 22 agosto io devo dire la verità sono in canottiera sto benissimo quindi la veranda di casa temperatura ideale anche per fare una diretta natasha ti ringrazio ok vediamo vediamo sono aperte le tazioni si possono fare più volte certamente allora questa domanda è semplice se le fai più volte come se fosse un mantra per potenziare la tua attrazione le puoi fare tutte le volte che vuoi se le fai invece perché senti la mancanza perché fretta perché non è successo niente è meglio di no questo è l'idea sempre della legge d'attrazione si consapevole del motivo per cui le fai se le fai per piacere sì se le fai per bisogno no lascia fare diventa prima consapevole dei tuoi desideri e poi rifarla quella volentieri poi dunque affermazioni non vanno non ho capito scusa tina non ti ho capito neanche io mi dispiace non vanno no vanno vanno le affermazioni bisogna essere molto costanti però bisogna essere costanti e la costanza ti crea crescita personale quindi vanno benissimo le affermazioni le uso da almeno dieci anni e sono fantastiche per far entrare idee nel subconscio ma serve attenzione consapevolezza emozione poi vediamo spiegazione grazie giulia sto facendo le tazze ne sono al settimo cielo bravissimo irania bravissima che percorso ci consigli per sviluppare la crescita personale teresa teresa parti sempre da te stessa dal tuo dialogo interiore e da lì che poi si svilupperà il tuo personale percorso impara a conoscerti impara ad accettarti è solo questo se stai bene chiediti come mai sta bene se stai male chiediti come mai sto male datti le risposte fatti le domande e questa è la crescita personale almeno l'inizio di una crescita personale conoscere i nostri pensieri conoscere il nostro corpo questa crescita personale conoscere la macchina che stiamo utilizzando ora in questo momento poi vediamo allora natasha se le frequenze benefiche si ascoltano l'organo a cui si riferiscono in buono stato gli recano danno assolutamente no lo rinforzano eventualmente quindi le frequenze per esempio le frequenze a 432 hertz rinforzano tutta la nostra macchina non gli recano danno quindi le fanno vibrare ancora meglio le fanno purificare quindi fa solo bene poi vediamo anna ho tante cose ha funzionato sempre grazie anna grazie grazie poi vediamo la mancanza per un lutto come si gestisce allora la mancanza per lutto intanto qui si va sulla psicologia magari sul canale o un video dedicato alla mancanza per il lutto il lutto si gestisce in tante maniere e però senza un contesto necessario e non ti potrei rispondere adesso così se mi vuoi contattare in privato sarò felice di risponderti magari conoscendo ti meglio sul canale comunque c'è un video dedicato al lutto ecco poi vediamo quindi le affermazioni subliminali sono più potenti di quelle dette cercando di autoconvincersi non rudy sono tecniche diverse per raggiungere un unico scopo semplicemente questo anche perché calcolate che i messaggi subliminali non sono recepiti da tutti e serve lo stesso molta costanza per farli quindi no poi vediamo le tazzine funzionano meno male grazie se il fulcro di tutta la consapevolezza e appunto non si sta proprio bene fisicamente cosa consigli di fare le formazioni mantra o le frequenze tizi non è una domanda logica questa le frequenze sono una cosa ben specifica ti consiglio di andare a rivedere allora questa diretta all'inizio dove parlo di frequenze di cosa sono le frequenze curano gli organi o l'energia le affermazioni e la formazioni fanno altro inseriscono idee ideali che possono servire anche alla cura dell'essere umano ma mi sa che qui c'è addirittura poca chiarezza poca poca idea di cosa si sta facendo una frequenza è un suono un mantra è un'idea quindi c'è la sua bella differenza ti consiglio ecco di riascoltare magari questo audio quando sarà finito dall'inizio si possono usare le due tasse contro la negatività puoi usare le tasse per ogni cosa se le sai usare volentierissimo che contro la negatività allora vediamo vediamo giulia ti ringrazio vito ciò che temo mi accade quello che mi spaventa mi raggiunge legge di attrazione questa è la frase tipica infatti vediamo poi come si fa a contattarti in privato se non sbaglio francesca sei iscritta al facebook già lì c'è lasciata di facebook oppure sulle mie mail che sono nella descrizione dei video dna e chiocciola outlook punto it quindi ci sono molti modi per contattarmi e mi sembra di averti visto nella su facebook quindi tramite facebook c'è lasciate privata poi mantra contro la negatività a casa carmela c'è già anche quello c'è una frequenza specifica contro le energie negative e c'è un mantra dedicato anche ci sono frequenze curative per i denti o un serio problema angelina non lo so se ci sono frequenze determinate solo per i denti però sul canale comunque ogni frequenza benefica per esempio la cura del dna al 528 che è il mio stemma poi oltretutto dna alti 528 aiuta aiuta tutto il sistema corporeo la musica 432 aiuta tutto il sistema corporeo anche poi vediamo allora non riesco ad attrarre un lavoro seguito il tuo video 21 giorni ti consiglierei anche in questo caso di andare a rivedere i 21 giorni sono il tempo minimo consigliato poi nel video dei 21 giorni per attrarre denaro dico di agire dico di pensare quali sono i tuoi pensieri la mancanza o la voglia il bisogno o già ti immedesimi mentre stai facendo un lavoro quindi si consapevole di cosa sta succedendo nella tua vita cristina e vedrai che non è il video in 21 giorni che non ti ha cambiato il sistema ma sicuramente c'è magari una mentalità puntata alla mancanza ecco poi vediamo allora il mantra dell'amore baban anche vala non mi abbandona mai e rania grazie l'ho cantato e l'ho suonato molto molto volentieri è stato bellissimo oltretutto suonarlo e cantarlo allora ma come legge di attrazione si fa contro qualcosa perché si attrae quello ne si vuole siamo noi la canna mita francesca quindi si si attrae sempre ciò che si pensa quindi anche se lo fai contro qualcosa tra i quel qualcosa quello sì allora natasha quindi le affermazioni subliminali che non sentiamo sono nascoste anche nella musica e sono almeno 40 anni che fanno ci sono un sacco di pubblicità di gruppi heavy metal dove dicevano dei messaggi subliminali in televisione costantemente utilizzano messaggi subliminali sono dichiarati addirittura la stessa rai utilizzava frequenze con messaggi subliminali è stato detto più volte anche alla in televisione è stato dichiarato più volte gli stessi queen in under no under pressure in non ricordo il titolo della canzone utilizzavano comunque messaggi subliminali sembra legati a demoni ecco per acufeni forti che frequenza fabio per acufeni e non consiglierei frequenze in quanto l'acufene è legato comunque all'orecchio quindi non so eventualmente bisogna vedere da dove derivano queste acufeni perché alcuni acufeni derivano dalla pressione magari alta questo lo dico per esperienza io sono musicista ho avuto acufeni però dovuto alla musica troppo alta quindi era un problema meccanico del mio apparato uditivo però gli acufeni derivano anche dallo zucchero che mangiamo dalla pressione troppo alta sanguigna da tante cose non è così banale dire una frequenza per le acufeni ecco bisogna vedere la causa poi vediamo si ascolta un subliminale con la mia voce meglio fanno bene anche quelli su internet come crearli personalizzati leonardo dipende se li fai bene vanno bene suoi se ascolti quelli su internet veri vanno bene anche quelli su internet come creare personalizzati mi dispiace ma i miei trucchi non li svelo a nessuno poi uno studio di registrazione io quindi sai dire come creare un subliminale personalizzato è un pochino riduttivo poi allora gioacchino ho risposto già al tuo messaggio qualche minuto fa anche qui lo ripeto ma io lo ripeto per voi perché a me non interessa se scrivete e non ascoltate è inutile ascoltate e poi eventualmente fate domande se io non ho risposto però fondamentalmente se continuate a scrivere e continuate a smessaggiare senza ascoltare poi è ovvio che fate sempre le stesse domande ecco questa è un vision bravissimo giochino bravissimo quindi questo è il primo punto della consapevolezza ascoltare e ascoltarsi ok fiore di loto io non riesco più a sentire la musica vedere tv fortunatamente è così stanno ripetendo mantra in continuazione negativi molto negativi io gioco e non vinco mai perché giovi dimmelo te io non lo posso sapere mi dispiace se sapessi il perché non vinci sarei non so probabilmente un santone un dio qualcosa del genere chiedilo a te stesso quali sono i tuoi pensieri eventualmente ma soprattutto perché sto giocando anche ecco noi siamo risultati di ciò che pensiamo e ciò che diciamo vito assolutamente vero quali frequenze si possono ascoltare per guarire da ansia depressione attacchi di panico tiziana non corretto questa cosa non non è una domanda diciamo consapevole nel senso e ti chiedo già perdono per questa mia risposta però se io ho ansia c'è un motivo si deve guarire il motivo della mia ansia se è una depressione devo risolvere il motivo della mia depressione non basta prendere la pasticca o la frequenza per risolvere l'ansia la depressione gli attacchi di panico devi capire consapevolmente qual è il motivo della tua ansia altrimenti se ci sono le frequenze che stare bene certo ma se non risolvi e come prendere una pasticca quando finisce l'effetto ti torna a far male quindi cosa sono queste frequenze sono nuova del gruppo grazie l'orella c'è tutto sul canale l'orella l'ho spiegato all'inizio di questa diretta se cerchi frequenze benefiche sul canale dn alt troverai anche le spiegazioni di cosa sono di come si usano di quant'altro quindi non lo ripeto perché l'ho detto comunque all'inizio di questa diretta un mantra per questo periodo strano che stiamo vivendo veronica non anche questa sarebbe troppo generica da fare ho creato il mantra del io merito io posso il mantra dei re il mantra dei recchi oltretutto l'ho creato sognando quindi sono tutti i mantra adatti a questo periodo se ti concentri su te stessa questo periodo fondamentalmente non è così pesante poi vediamo bravissima shaktiveda o bravissimo non so a mio prossimo come amo me stesso me stesso quindi sei un uomo ottimo infatti e questa è la base di tutto anche macchina mentre guidi nient'altro niente più radio ma dna è sempre sempre presente grazie a gabriella grazie è stato anche un grande onore un grande piacere conoscere alcuni di voi quindi per me rimane e rimane sempre un grandissimo onore allora vediamo luna piena durante i mantra non riesco a rimanere concentrata consigli no mi dispiace la concentrazione fa parte anche questa della consapevolezza e crescita personale rimanere e saper rimanere nel qui e ora fa parte del nostro essere non ci sono consigli non è che ti posso dire mettiti a testa in giù e rimarrai più concentrata la concentrazione io la sviluppo quotidianamente quando rigoverno per esempio faccio la battuta o la lavastoviglie sì quando rigoverno a mano io medito vedo ogni singolo oggetto che tocco ogni singolo oggetto che lavo e rimango concentrato su ciò che sto facendo questo è un esercizio quando mangio rimango concentrato sul cibo lo guardo lo annuso lo assaporo questo altro modo per rimanere concentrati quando faccio meditazione e la faccio da più di dieci anni mi concentro sul respiro e questo è un altro modo per rimanere concentrati quindi non c'è purtroppo un trucco devi essere consapevole dei tuoi pensieri e ritornare sul mantra come se fosse una meditazione ti distrae ok faccio un respiro e torno sul mantra questo è l'esercizio da fare poi vediamo grazie 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 il mantra del re bellissimo grazie 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 giulia grazie flora ilaria il ritardo ma ci sono meglio tardi che mai grazie patrizia quando farai un incontro dal vivo con una bellissima meditazione allora incontri dal vivo per adesso li faccio sono in studio in maniera privata li ho fatti in passato a febbraio con il corso di crescita personale di quattro settimane per adesso non sono dedicati a tutti gli incontri dal vivo chi mi deve conoscere già mi conosce mi sta conoscendo chi mi contatta dal vivo anche a occasione di conoscermi come dice il grande gurdjieff il maestro della quarta via l'insegnamento deve essere per tutti ma non è per tutti quindi fondamentalmente ci vuole impegno e fare una live per esempio dal vivo una meditazione dal vivo per tutti quanti quindi presentandomi mettendo tanta energia sarebbe troppo riduttivo per l'insegnamento stesso è un concetto difficile da capire però chi legge della quarta via lo sa sa di cosa parla poi vediamo gabriella ecco grazie vediamo per la presenza nel qui e ora anche sì certo però ricordo a tutti che la lettura ci sono persone che hanno letto centinaia di libri e non li mettono in pratica io sul qui e ora ho tantissimi video eppure nonostante tutto mi viene chiesto lo stesso come faccio a rimanere nel qui e ora nonostante ci siano meditazioni guidate da fare quotidianamente ma che non vengono fatti quindi anche la presenza e le imitazioni consigliate da altri autori che sono validissime ovvio se non vengono fatte con costanza e chiarezza e consapevolezza sono inutili ho sentito che la tecnica 55 per 5 sarebbe preferibile farla la sera quando si è stanchi perché la parte con c'è meno attivo però credo che in questo modo è più difficile poi emozionarsi tu cosa ne pensi allora maria rosaria io penso tante cose nel senso io penso che devi sperimentare questa è la prima cosa la parte consapevole è meno attiva in prima mattina è meno consapevole in prima quando siamo stanchi la sera ma quando siamo stanchi anche la sera è difficile concentrarsi e la 55 per 5 ha necessità di tanta concentrazione perché bisogna rimanere attivi e focalizzati mentre si scrive il 55 per 5 rigorosamente a mano quindi quindi questo ecco però fondamentalmente ecco farla di mattina di sera di pomeriggio anche lì se la foto di pomeriggio dopo aver pranzato è ovvio che tutta la mia energia e il mio sangue concentrato nello stomaco e quindi la mia concentrazione sarà più bassa rispetto a un 55 per 5 da scrivere ci vuole consapevolezza quando si fa un'attività poi patrizia cero lo so che c'eri me lo ricordo è stato un grande onore anche per me patrizia poi vediamo nazareno nella meditazione accorre molta costanza ma risultati arrivano grazie assolutamente vero con la meditazione si cambiano le nostre sinapsi mentali si cambia la nostra mente è stato fisicamente è stato scientificamente dimostrato che cambia la nostra mente facendo meditazione in maniera costante ovviamente quindi sì poi vediamo penso che solo mettendo in pratica si possa prendere consapevolezza di come funziona qualcosa rudy ovvio assolutamente vero io ero uno che leggeva tutti i manuali di istruzione di tutti i giocattoli che avevo a casa ma poi se non ci giocavo erano utili stessa cosa quando compra il mio primo drone perché a me diverte giocare con i droni che volano leggi il manuale ti dimentichi del manuale prendi il joystick in mano e lo vai a schiantare nel muro come mai eppure ho letto il manuale è sì ma senza la pratica il manuale non serve a niente quindi è proprio questo la legge d'attrazione è consapevolezza più esperienza altrimenti ti schianti nel muro come ho fatto il col drone poi vediamo un abbraccio maria maria un abbraccio anche a te per la mancanza di costanza giuseppina questi la mancanza di costanza può essere derivante da tante cose autosabotaggi abitudini tante cose se fai un percorso è nel tuo interesse fare questo percorso quindi si costante non c'è altra non c'è altro modo sempre citando la quarta via gorgef non esistono allievi non costanti in quanto non sono allievi fondamentalmente l'idea è questa se vuoi fare una cosa e la vuoi realizzare la fai se non c'è costanza devi combattere contro i tuoi autosabotaggi devi combattere contro la tua consapevolezza è lo stesso principio della della dieta quando uno inizia una dieta poi dice vabbè primo giorno sono tutto si focalizzato alla dieta il secondo giorno anche il terzo giorno poi il quarto giorno dico vabbè un pezzo di torta me lo mangio e non sono costante questi sono autosabotaggi la costanza vuol dire che io sono più forte e mi accorgo quindi sono consapevole di della mia voglia di mangiare la torta e se sono consapevole della mia voglia di mangiare la torta evito di mangiare la torta stesso discorso per chi vuole smettere di fumare tante persone mi hanno chiesto ma come faccio a smettere di fumare smetti di fumare semplice eviti l'automatismo di accenderti la sigaretta quindi diventa consapevole della voglia di accendere la sigaretta perché poi non siamo consapevoli il problema è sempre lì la consapevolezza e dal momento che io divento consapevole di avere un accendino in mano una sigaretta in bocca decido di non accenderla se decido di non accenderla per almeno 21 giorni smetto di fumare funziona così amalia ti ringrazio ti ho scoperto da un paio di settimane è stato un periodo abbastanza difficile metto i video e la tua voce mi stanno aiutando e dando una carica incredibile grazie 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 a te ok poi vediamo sonia rossi grazie siamo tutto e tutti così diversi mi fa piacere leggere di tanta gente entusiasta è vero siamo tutti diversi siamo tutti uguali meccanicamente siamo tutti uguali ma siamo tutti diversi veniamo tutti le esperienze diverse che ci hanno creato una vita diversa però fondamentalmente siamo anche tutti molto simili quindi possiamo aggiustarci possiamo aggiustare la nostra vita in maniera efficace allora vediamo ho ancora dei sensi di colpa mi sono perdonata più volte ma mi rendo conto che non li ho eliminati è per questo che non riesco a concentrarmi su ciò che desiderio tengo poco non lo posso sapere mi dispiace questa è una domanda a cui puoi rispondere solamente te sicuramente se hai sensi di colpa che non hai eliminato e ti tornano in mente continuamente ci sta purtroppo però queste sono domande che solo con la tua consapevolezza potrai dare una risposta adeguata ecco ti ringrazio franca grazie ho difficoltà ad accettare le affermazioni cosa fare grazie insiste semplicemente questo i 21 giorni servono proprio a insistere con la costanza per far sì che le affermazioni diventino parte di te francesca perché non so visualizzare non te lo so dire perché non sai visualizzare io non sono dentro la tua testa ti posso solo dire che la visualizzazione per alcune persone è molto più semplice per altre un pochino più complessa ma si può allenare con la costanza quindi ho dei video dedicati proprio alla visualizzazione a cosa visualizzare come visualizzare a iniziare a visualizzare quindi ti consiglio magari di iniziare con quelli e farli con costanza come ho fatto io tanti anni fa perché io vedevo il buio buio più totale e poi ho visto un limone un giorno un bellissimo livone luminoso nella mia mano quindi serve semplicemente costanza costanza e prova intendevole affermazioni se mi hai detto le affermazioni per me alle affermazioni se intendi le affermazioni semplicemente o non le fai o fai le affermazioni fondamentalmente ci sono tanti metodi per raggiungere un unico scopo cinzia se le affermazioni non ti entrano non ti piacciono e usa le affermazioni se le affermazioni non ti piacciono non ti entrano usa subliminali se subliminali non ti entrano te usa le meditazioni ecco sono tutte tecniche per raggiungere lo stesso identico scopo grazie vita ti ringrazio grazie ho capito che se faccio un mantra e non sono convinta di quello che faccio non succederà mai nulla bravissima carmela è proprio così poi ma perché più merito e meno mi concentro più ci provo e più mi nervosisco perché non cerco sonia stesso discorso io non so perché io non lo posso sapere perché non sono in casa tua io non non ti conosco non so quali sono le tue abitudini non so quali sono le tue credenze è per quello che io punto tanto al self talk al dialogo interiore così facendo riuscirete a capire voi stessi quali sono i vostri limiti e il perché non andate avanti in una cosa o clienti in continuo che mi dicono io non riesco ad attrarre l'amore per esempio nella mia vita faccio e mantra non la trago faccio e mantra non l'attacco poi dopo 15 sedute scopri che parlano di poca autostima scarsa autostima poco amor proprio poco ecco ecco fatto però perché ci vuole tanto tempo perché sono una persona esterna che cerco di capire cosa avete poi nella testa ma io sono una persona esterna quanto prima ci vuole se l'idea vela vela prendete per conto vostro ci vorrebbe pochissimo a dire a non attrago amore perché fondamentalmente mi faccio schifo ecco però nella vostra testa questo concetto è già chiaro magari ora io ho fatto un esempio un esempio anche abbastanza brutale sia chiaro però è così se vi rivolgete a un professionista esterno come me io non posso sapere cosa vi passa nella testa sarei un mago sarei un dio se lo sapessi sarei non so forse fuori di melone anche ecco però è così la consapevolezza del perché ce la dovete avere solo voi allora vediamo si può un desiderio trasformarlo sotto forma di sogno cioè fare una fiaba aspetta si può il desiderio trasformarlo sotto forma di sogno cioè fare una fiaba tina tante credenze limitanti sono sotto forma di filastrocche quindi sì certo si può fare una fiaba e trasformarla in un desiderio certo perché la fiaba diventerà una credenza potenziante magari invece che limitante assolutamente sì poi vediamo only music grazie grazie veronica funziona funziona assolutamente se funziona ludovica grazie cosa pensi di oponopono cosa penso di oponopono è già descritto in diversi miei video quindi ti consiglio di andare a vedere il mantra pono pono è un mantra fantastica un mantra favoloso che va saputo usare a dovere però cosa ne penso appunto è già descritto in tantissime dei miei video camelia grazie poi vediamo mi è capitato di nominare per alcuni giorni allora mi è capitato di non meditare per alcuni giorni per un lutto e credimi non stavo più bene ora mi sta aiutando anche con il lutto comunque grazie se fantastico stefania ecco certo la meditazione comunque aiuta l'elaborazione l'elaborazione di ogni avvenimento di ogni avvenimento addirittura di un lutto aiuta tantissimo perché ti apre la mente ti fa ragionare in maniera più veloce ti fa metabolizzare meglio ogni situazione quindi si veronica si fa si cade nell'errore di voler tutto e subito si come io volevo guidare il drone senza leggere le istruzioni senza sapere come si guidava il drone infatti lo schiantato in un muro subito però è così si parte dalle basi come in ogni disciplina si deve sempre partire dalle basi tempo fa feci un test a una mia cliente e gli dissi guarda perché era sul ma come faccio a fare questo questo e quest'altro mi disse guarda semplice deve rimanere meditazione 10 minuti ci siamo sentiti due giorni dopo gli ho detto quanto sei rimasto in meditazione un minuto e poi mi sono rotta le scatole ecco tutto è subito se non riesce a stare 10 minuti è ovvio che poi non riesce a fare le cose però noi tendiamo a mettere il carro davanti ai buoi per rimanere su un su un detto popolare e è proprio così la legge d'attrazione la vogliamo usare come se fosse una magia ma non sappiamo usare la magia vogliamo diventare maghi ma non sappiamo come funziona la magia è proprio questo il problema io non so usare bene la legge d'attrazione sono dieci anni che sperimento la legge d'attrazione ho iniziato a capire quali sono i miei pensieri e ho capito come funziona la mia legge d'attrazione è questo il gioco però ho capito prima come funzionano i miei pensieri per poi capire come funzionava la mia legge d'attrazione è questo non voglio e non pretendo di capire come funziona la legge d'attrazione se prima non capisco come funzionano i miei pensieri quindi appunto ciao sono in una situazione triste nella mia vita ma sono ancora più triste perché non riesco a ottenere ciò che voglio sembra di non arrivare a nulla infatti perché se sei triste tra i tristezza tristezza quindi è per quello che punto alla crescita personale alla consapevolezza solo per questo perché se sei consapevole di essere triste impari ad utilizzare gli strumenti che sono anche presente su questo canale per evitare la tristezza per esempio il dividere la giornata in sezioni la sezione della mattina la sezione del pomeriggio la sezione della sera per esempio a usare 15 minuti a usare gli obiettivi smart ecco però bisogna essere consapevole consapevoli di quello che ci passa in testa allora rudy riguardo al video in cui spiegare come entrare in teta è necessario continuare a respirare profondamente anche quando si ha ruotato gli occhi verso l'alto allora è relativo nel senso è la rotazione degli occhi che ti stimola lo stato terra non il respiro in questo caso ovviamente se respiro in maniera profonda è sempre meglio poi allora ho appena visto il metodo delle tue tazze immagino che sia qualcosa come quello che faccio con i bicchieri se hai visto il metodo si puoi darti la risposta da sola perfetto grazie allora grazie mm grazie a te allora vediamo non sono un uomo sono donna e scusami prima avevo letto un una cosa al maschile perdonami non lo so purtroppo non vi vedo ecco ok vogliamo anche tu i libri grazie massimo presto dai ho iniziato sul vostro consiglio a scrivere qualcosa a scrivere qualcosa della mia vita a scrivere la mia esperienza di crescita personale leggi d'attrazione quindi spero presto di potervi guidare verso un mio libro volentieri e sarà anche un modo per conoscersi magari molto volentieri poi buonasera ritardo ecco qua il segreto sta nel lavorare sulle vibrazioni ovvero le emozioni certo veronica è perfettamente ragione il segreto però è lavorare nei pensieri che stanno sulle emozioni che stanno sulle vibrazioni perché con un pensiero positivo si creano emozioni positive e le emozioni positive stimolano le vibrazioni positive quindi si più o meno si dai poi vediamo allora siamo già alle 22 23 minuti il tempo è volato anche stasera 22 agosto 2021 siete una mi fate volare il tempo ma tu hai attratto ricchezza in forma monetaria certo costantemente allora io lo so perché a me non funziona niente mi amo poco può essere anche per questo motivo se ti ami poco il tuo tempo non ha valore la tua persona non ha valore le persone non ti danno valore quindi si è anche per questo però non è che non sta funzionando niente sta funzionando tutto benissimo giovanna è proprio per questo che devi cambiare il tuo pensiero e la tua emozione verso te stessa perché tutto sta funzionando proprio al meglio ovvero ti sta confermando che non vali niente quindi è qui se capisci che te invece vali attrarai tutto il contrario è proprio questo il discorso che cerco di fare io mi ripeto scusami mai subliminali notturni servono per gli schemi limitanti grazie 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 antonella si servono proprio per quello mantra affermazioni subliminali servono per gli schemi limitanti allora grazie per i tuoi video e complimenti grazie a te cosa pensi del libero arbitrio e dell'attrarre una persona con la legittazione ciro o almeno una decina di video che parlano di libero arbitrio e legge d'attrazione tra cui una diretta intera quindi ti consiglio vivamente di andare sui miei video sul mio canale e vedere cosa ne penso io del libero arbitrio comunque sia ciro te cosa vorresti che ti fosse fatto ecco se io decido che te sei una marionetta ti piacerebbe no ecco quindi questo è quello che penso del libero arbitrio non fai non fare agli altri ciò che non vorresti essere fatto a te semplicemente questo grazie antonella grazie mille poi vediamo per il libro ti invito a suave il festival del libro e la cultura così presenti il tuo nuovo libro grazie francesca più che il mio nuovo libro il mio primo libro sarà grazie e lo sto scrivendo oltretutto con il metodo e dei 15 minuti al giorno che ho descritto in un altro video quindi perché io non ho tempo lavoro moltissimo e ho moltissime passioni quindi sto scrivendo questo libro a 15 minuti al giorno ogni giorno creando appunto una nuova costanza ok poi vediamo vediamo carmen carmen grazie a te grazie 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 a te è veramente un onore e urania grazie veramente grazie joana grazie poi vediamo ho trovato ho trovato lavoro grazie ai tuoi mantra mara franchini grazie questa è una bellissima testimonianza ho trovato lavoro grazie ai tuoi mantra grazie un abbraccio i mantra sono un mezzo però è stata la tua mente la tua attrazione a trovare quel lavoro quindi io sono stato solo un mezzo un mezzo che è servito mi fa molto molto piacere patrizia mi raccomando firma con dedica certo certo che sì certo che sì poi vediamo ciro sto a sì ok la penso commette sulla tra una persona specifica grazie grazie a te poi vediamo allora gli ultimi minuti gli ultimi minuti allora vediamo se rispondo ancora a qualche domanda poi verso le 10 e 30 vi saluterò e vi augurerò anche una bellissima serata una bellissima notte e un bellissimo proseguimento poi di estate le dirette io ne faccio circa un al mese almeno poi ci sono quelle improvvisate che ogni tanto faccio così quando mi vengono in mente e la farò quindi circa metà settembre la prossima vediamo mara ti ringrazio gabriella grazie sempre grazie rita grazie allora il tempo di rispondere a un altro paio di domande poi vi darò la buonanotte allora florentina grazie allora portate mi raccomando l'energia dentro di voi questo è un mio consiglio il social la televisione il mondo esterno tende a distrarci tende a portarci fuori tende a disperdere in maniera negativa la nostra energia fatevi questa domanda ogni giorno io come sto come mi sento portate l'energia dentro di voi e questa è la cosa bella angie grazie veronica grazie viva il lupo viva il lupo fiore di loto ti ringrazio grazie rudy grazie grazie mi servirebbero 24 occhi per per vedere tutti i vostri commenti ma grazie ugualmente allora cosa pensi per attrarre oggetti persone relativamente cose in generale anche quando ci si focalizza non succede quasi nulla a me succede invece sempre quindi questa è un io ho un canale che parla di legge d'attrazione appunto su come attrarre cose persone oggetti quello che penso è già descritto nei miei 230 e ruti video la legge d'attrazione c'è funziona se la fai funzionare come ho detto dall'inizio di questo video sii consapevole dei suoi pensieri perché se sono legati alla mancanza e del non succede vuol dire che stai attraendo proprio questo grazie grazie ancora a tutti allora vediamo claudia ti ringrazio allora vita la tristezza proviene dal passato pensare al futuro nel passato non c'è futuro infatti la crescita personale serve a risolvere proprio il passato a metabolizzare a creare a rielaborare un passato per rendere un presente bello e di conseguenza un futuro migliore angiolina grazie grazie mille e urania buonanotte buonanotte anche a te francesca grazie grazie florentina la vita è bella merita di impegnarsi di più quindi sweet dreams a tutti bellissima frase grazie buonanotte a tutti e allora cosa vi dico buonanotte buonanotte e soprattutto buona vita a tutti voi a quelle persone a cui non ho risposto potranno contattarmi in privato tramite commenti sotto questo video sotto altri video tramite facebook trovate la mia pagina dna health 432 la mia mail dna health attenzione alle h nacca all'inizio e un h alla fine chiocciola outlook punto it quindi grazie 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 e buona vita a tutti un bacio